Ecco, siamo all'aeroporto internazionale di Paphos, agli arrivi, e ora andremo verso la stazione del bus, il bus numero 612 che conduce a Cato Paphos, che è la parte bassa di Paphos, lungomare. Questo è l'arrivo, la zona degli arrivi. Ecco, qui di fronte abbiamo una serie di bus, il bus cittadino che si trova proprio qui di fianco, e ora andiamo verso questo bus, questo è l'aeroporto. Qui ci sono i taxi, ecco, proprio qui di fronte abbiamo la fermata del bus pubblico. Ecco, lo vediamo, lo vediamo proprio qua. Ecco, qui abbiamo la fermata del bus numero 612. Si sono anche alcune fermate dopo mezzanotte. Andiamo a vedere il bus 612. Ecco, qui vediamo appunto la fermata che c'è alle 23.55, alle 1.05 ci sono le ultime due. Poi abbiamo il bus 613 al 649.